mamma mia sti scali non finiscono più mamma mia quella mamma mia per forza yoga mi doveva far fare per forza yoga mamma mia il dolore di gamba non vede è istruttore di yoga abdullo proviamo a bussù chi è arrivo subito buongiorno buongiorno io sono signore scosdo sì sì io devo fare una prova di yoga una cosa a breve una cosa a breve devo fuire fuire lavoro io lavoro bene sento il tappetino per te tappetino io essere il marolino allora io dico che io subito faccio sì fratello una cosa io voglio e lo piano la yoga è stata la realtà è basso la yoga è essere una cosa fondamentale di rilasso 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 quindi si oppure quella omega sc needle c'peggio c'è un indirlo al sito fai' escusa le dipende no cosi tapet nor cosi come sta lei come così si bravo Un po' di distanza di là, dietro, 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 più dietro, eh, ma fratele, ma cosa è il giorno, una cosa è il giorno, sta facendo notte, ma fai così, vai ragazzo di là, guarda, che devo fare? Metti per terra, sentuto col culetto per terra, non ti preoccupare col culetto per terra, bene, mettiti così, girato, così, ti faccio ridere? Sì, resta di me, bravo, resta io mettere musica e iniziamo il rilassamento, vabbè, l'abbiamo, vieni, rilassamento, rilassamento, Sì, conto? Pronto, pronto, così c'è un giro, tu mettere così, relax, relax, respira profondamente e caccia fuori, chiudi gli occhi, vai, vai, quando ho un'estitazione, hai unik sur, è un vero, otro, è un vero, è unació, Voglio usare, ho iniziato a mettere un frasco, e un po' inizio, стоi qui, l For no, inizio, Sì. C'erano io? Sì. Ma sì. Come volerì? Mentre davvero bene. Davvero bene? Sì. Come l'avere io, vedi? Poi? Aspetta che passo malabosce. Cosa ti sentiamo? Direi poi. Una cosa di giorno! Una cosa di giorno! Scusate. Sei pronto? Sì. Tu metti le gambe così! Vai! Ce la fai, porco? Oh, non provoci. Mettere i piedi così! Così. Devi stare in diritto, con i piedi sei storto! Eh! Tu sei tutto storto! Fai! Mettiti così! Fisano Gesù! E dire le frasi che direi io! E dire le frasi che direi io! Fai un mok! Fai un mok! Dile le cose che direi io, se ti picchio! Dile le cose che diri io, se ti picchio! Se hai qualcosa da dire, parla! Se hai qualcosa da dire, parla! Io sono Gesù E' bravo Ho preso i pesci e ho moltiplicato i pesci Ho preso i pesci e ho moltiplicato i pesci Ho preso Abdull e ho moltiplicato Abdull Ho preso Abdull e ho moltiplicato Salam Salam Alic Abdull Salam Abdull Abdull Ora mettele così Ora mettele così Uhhh 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 Te la fai azzone dopo? C'è azzone E tu non vuoi? Come ti fai azzone? Ah scusa tu ce la fai perchè dietro c'è finestra dovresti fare una scorrigia e dovresti rubare la scorrigia della cosa C'è azzone? C'è azzone? C'è azzone? Azzone? C'è 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 azzone?